Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Alle feriere di Premadio la mostra un mondo di sguardi, catturati dal reporter-fotografo-antropologo Gianluigi Sosio. Il lockdown gli ha dato modo di sistemare l'archivio. 130 foto in bianco e nero, primi piani di persone incontrate in 80 paesi del mondo, sguardi solo a lui regalati, solo da lui colti, esprimono eventi più grandi di loro. Come la bambina all'orfanatrofio di Herat, che Sosio ha provato a far sorridere, non riuscendovi nemmeno con la cioccolata. Ho passato la vita a guardare dentro gli occhi della gente. Dicono che sia l'unico posto dove esista un'anima. Sguardi che fissano l'osservatore negli occhi. Una foto può davvero rubare l'anima, scrive in occasione della mostra il giornalista Viviano Domenici. Ogni ritratto porta sul volto la polvere del sentiero che l'ha percorso. Sosio è un inviato speciale nel bene e nel male. Volevo fare il regista, perché sono legato in architettura, perché allora gli registriano tutti gli architetti. Poi passai alla reportage e lì non ho più mommato. Reportage in quanto è la curiosità che ti porta a fare questo mestiere e le ha curiosità di andare dentro alle cose, le più belle, le più brutte, le più devastanti. E non ho mai smesso. E anche il futuro, quando mi chiedi cosa fare nel futuro, vorrei continuare. Anche se questa fase di Covid, intanto mi ha permesso di fare questa mostra, perché ho trovato il tempo di mettere insieme le immagini. La paura è necessaria, perché il pericolo è il panico, ma la paura ci vuole, perché devi essere razionale e sapere come reagire in certe situazioni che sono decisamente un po' pericolose, o quantomeno preoccupanti. Però in fondo la paura la si supera con la passione. Quando tu vuoi fare una cosa, vai anche a buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo. La solitudine era la condizione necessaria per apprendere, dice, per scivolare silenziosamente tra le cose del mondo e raccontarle. Avevo scelto di stare dall'altra parte e mi ritrovai con una fotocamera al collo e una Olivetti 22 nel borsone tra camicie e pantaloni. Ma talvolta neppure la solitudine è sufficiente. Ripresi a studiare antropologia, cercare il contatto con l'uomo per tentare di leggerlo, attraverso quotidianità e contraddizioni, e così a pagare la mia insaziabile curiosità. Il lavoro dell'inviato è un po' come il medico di guardia, non è che è pronto a partire. Una volta ero nel Togo a fare un reportage sul Voodoo e mi chiamarono per dirmi che stava cadendo un muro di Berlino. Io in due giorni passai da 40 gradi, sopra 0, che ero nel Togo, a meno 20 di Berlino perché c'era un muro che stava praticamente fisicamente e politicamente cadendo. Riva in questo alloggio, in questo Gio Salazar, trovi le chiavi, e veni una mattina a portarmi la colazione e mi raccontò di essere il pronipote di questo Billy the Kid, e mi disse anche, ma io non ci ho creduto, che dove avevo dormito era dove avevano ammazzato Billy the Kid. Un gorilla è trovato nel territorio da Ian Fossi, nei Monti Virunga, dove fu ucciso di braconieri, e dopo quattro giorni di cammino trovavamo questa gorilla che era il capo di questo branco. Ed era molto difficile, dopo un giorno che si stavano insieme ad osservarsi reciprocamente, considerare un animale. E allora l'ho messo tra gli umani. Sosio coglie l'attimo, che è solo per lui, e poi svanisce. Donne piene di rughe di dolore, profughi tutsi del massagro in Rwanda, la guerra in Iraq, Afghanistan, Sebrenica, Ila Kandones, discendenti dei Maya, Virginia Chokinell, l'ultima della tribù Onas, nella Terra del Fuoco, rituali voodoo in Togo, anche personaggi famosi come il Dalai Lama, conosciuti quando era inviato per Epoca, Newsweek o la Rai. Lo sguardo è la sintesi finale di un reportage. Queste foto danno un significato alla mia percezione del mondo. Negli occhi di quelle persone ho visto ciò che non si può toccare. Uno sguardo è un momento unico ed irripetibile. Ti costringe ad andare oltre per approdare ad esistenze intere, anima dopo anima. I visitatori colpiti commentano, l'essenza dell'umanità passa attraverso i tuoi sguardi, l'emozione attraverso il tuo obiettivo, capace di afferrare l'inelarrabile. In queste foto è difficile vedere un viso, un sguardo di una persona che posa. Ti guardano e ti arrivano direttamente dove vogliono arrivare. Ed è per questo che ho fatto la mostra sui sguardi, perché non c'è neanche un europeo in questa mostra, tranne i personaggi famosi, perché l'europeo, l'occidentale, tende a mettersi in posa.